ok vintentari benvenuti tutti prima di tutto iscrivetevi al canale e schiacciate sulla campanella per avere tutte le notifiche su quando usciranno i buonissimi video ma ora toccate Matteo oggi andiamo a fare qualcosa qualcosa perché lo vedo spoglio lo vedo tantissimo spoglio per cui andiamo a farlo ok ragazzi abbiamo decorato per Natale siamo pronti con l'albero Nintendo Zelda che si sta preparando per il Natale manca la neve manca un po di cose ma si prepara per il Natale perché qui il mio modellino Zelda dove ci sono tutti tutte tutte quante le cose inerenti al Zelda sapete è un guerriero con la spada tutti quale le armature robe con le spade con è un po di più di Zelda perché c'è più Zelda che altro c'è per dire Solarium da story l'amiibo che è un guerriero sempre anche lui medievale come Zelda tutte le cose medievale di Zelda sono proprio qua dentro ma ancora non è natale per voi ma vedrete poi più avanti qua abbiamo Nintendo l'albero di Nintendo perché ogni anno c'è l'albero ma mancano un po di cose ma vedrete più avanti anche quello Sonic nel Sega Mega Drive che si è vestito da Natale per cui anche lui è adobato per Natale e niente bene ora ci salutiamo e ci vediamo alla prossima ciao 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 tocca a te oh ma dai hai finito il video ci vediamo alla prossima sempre e soltanto Nintendari ciao ciao ciao